Lavoro, statuto, federalismo, famiglia, energia, ambiente e sanità sono i temi dell'incontro La Basilicata che vogliamo, in programma al Castello di Lago Pesole. A promuovere l'iniziativa i consiglieri Falottico, Mancusi, Mollica, Navazio, Ruggero, Scaglione e Singetta, che relazioneranno ognuno su un tema specifico. I consiglieri regionali, che si riconoscono nel centro moderato, sostengono che è giunto il momento di avanzare proposte aperte anche al contributo di altre forze politiche e sociali. È necessario, aggiungono i sette consiglieri, che nei giorni scorsi hanno stretto un'intesa su una piattaforma programmatica comune, promuovere e accelerare, a partire dalle commissioni consigliari, il lavoro sui temi più stringenti che interessano la comunità regionale.